Ciao. Bentornato al programma tv di oggi con notizie come. Gli ex GFini Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donna Maria sono stati pizzicati in un momento intimo, in occasione dei loro sette mesi insieme. Come avevano detto poco prima di uscire dalla casa del grande fratello VIP, lontano da alcuni concorrenti poco affini, Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donna Maria avrebbero trovato la loro serenità. Sempre più uniti e innamorati che mai, gli ex GFini tra una partita a scacchi, uno shooting e altri lavori, sono arrivati a festeggiare i sette mesi insieme. La scelta di Edoardo di trasferirsi a Milano a casa di Antonella, è stata la cosa migliore che potesse fare, visto che da quando la Porta Rossa si è chiusa alle loro spalle, non hanno mai litigato o corso rischi di questo tipo. Aria di crisi per i donnalisi. Nell'ultimo periodo, Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donna Maria non sono stati molto attivi sui social, rispetto a qualche mese fa. Questo silenzio ovviamente ha fatto andare in allarme tutte le ragazze che continuano a sostenere questo legame affettivo. Soprannominandosi addirittura donnalisi. Tra chi continua a non sopportarli e chi non aspetta altro che uno dei due o tutti e due. Faccia un passo falso. Purtroppo dovranno aspettare ancora un bel po'. A quanto pare l'amore dei donnalisi sta continuando a ve le spiegate. Sette mesi di passione e amore. Le voci di crisi sono state debellate. Dal momento che i due ragazzi avevano scelto di restare sul divano per dormire e recuperare un po' di energie. Per festeggiare i sette mesi insieme, Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donna Maria, hanno trascorso la serata a letto a vedere Netflix. Accoccolati a letto. In compagnia del cane Gohan di Edoardo. L'amico a quattro zampe ha provveduto a dare tanti baci ad Antonella. Speriamo che dopo questa storia ora sia tutto più chiaro. I donnalisi non sono in crisi. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire. Mettete mi piace e commentate. In particolare cliccate iscriviti al canale. Per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video. Grazie per aver guardato il video. Grazie per aver guardato il video.